Con gusto, l'Italia degli chef oggi è qua e guarda quanta bella gente che stasera grande voce inciterà tutti gli attori e i cibi da gustare, et voilà, sono tutti ad assaggiare insieme dalla nostra terra e poi un messaggio a tutto il mondo noi mandiamo Venite nel Cilenco a mangiare, con gusto questa vita noi viviamo Con gusto nel Cilenco a mangiare Con gusto! Bentornati a una nuova puntata di 105 con gusto Mi trovo qua in questo meraviglioso hotel Il Villaggio e con me ci sarà naturalmente la patron che ci guiderà e ci porterà giù nella sala dove ci sono i nostri amici che ci aspettano Bentornata Liliana, un bacio da parte di tutti i nostri amici naturalmente mi fa piacere essere qui con te, è sempre un piacere ma all'interno ci sono tante sorprese, vero? Pare proprio di sì, stavano preparando, io volevo sapere, sai? Adesso ho... Siamo curio! Mi sono messa da parte, vorrei vedere cosa fanno i veri chef Bene, andiamo naturalmente, all'interno noi troviamo la nostra amica chef Maria Dacunti con il fratello Vincenzo, con il maestro di cucina Gerardo Parente Poi ancora c'è il professore Abramo che ci racconterà tante tante cose Come al solito io entro e voi? Seguitemi! Eccoci pronti, siamo al momento della ricetta con i nostri ospiti oggi la nostra amica chef Maria direttamente da Montesana sulla Mercellan Ci fa tanto piacere sempre riceverti qui nel nostro bel, vicino al nostro mare Lei si trova proprio a due passi, dove ci troviamo Liliana? Siamo all'Hotel Il Villaggio a Policastro Trascario e Policastro Centro e siamo proprio a 100 metri dal mare con il sottopasso raggiungiamo direttamente la spiaggia quindi quando vuoi sei nostra ospite ovviamente Grazie, grazie Dai, hai visto questa volta dove ti ho portato? Sì, dai, è una novità Abituati sempre alle piane, sempre alla roba Ogni tanto Ogni tanto bisogna anche andare fuori e vedere nuovi orizzonti Ecco qua abbiamo anche Vincenzo, bentornato, pronto con le tue novità? Ciao Francesca, un saluto a tutti i telespettatori di 105 grazie alla signora Liliana per averci ospitato come ha detto lei, poi approfittiamo per andarci a fare un bagno Ovviamente mia sorella come al solito cucina e io abbino i vini, mi occupo della parte diciamo alcolica però bere sempre con moderazione Bravissimo, bravissimo Maria, allora noi possiamo iniziare a preparare prego, prego, prego ci avviamo verso i fornelli tu ormai i fornelli siete diventati un'unica cosa Maria, la ricetta di oggi allora come sempre nella semplicità Francesca visto che periodo ci sono i fiori di zucca oggi facciamo una ricetta con i fiori di zucca io ho portato le mezze maniche rigate facciamo con fiori di zucca pomodorino giallo e una ricetta veloce per le signore che lavorano sono impegnate o in vacanza o con i figli a scuola insomma per le signore che hanno poco tempo di stare in cucina a disposizione per la cucina procedi? allora noi abbiamo messo già sull'acqua quindi cuociamo la pasta e dopo in un secondo prepariamo il sughetto che è bello caldo un attimo mantechiamo la pasta bene Liliana cosa ne pensi? guarda Maria è bravissima ci fa gli amici da casa i nostri gustosi la conoscono fa delle ricette molto molto semplici ma gustosissime veramente strepitose io quando vado al suo ristorante mangio casereccio ma buonissimo poi guarda lì a Montesano sulla Marcellana è bellissimo hanno una chiesa che solo Vincenzo me la sa spiegare Vincenzo vieni qua ormai è pronta è stata ristrutturata si è stata ristrutturata quindi Montesano diciamo è il fiore all'occhiello abbiamo parecchi turisti che vengono da tutte le parti un sacco di boro e poi siamo stati diciamo il quinto borgo d'Italia quindi abbiamo partecipato al borgo d'Italia e quindi per Montesano è un vanto e la nostra cattedrale è il fiore all'occhiello per i turisti che si può salire anche sulle cuglie e guardare tutto il Vallo di Viano dall'alto che è uno spettacolo beh io ci devo andare e ci andiamo io già mi prenoto se gentilmente ci fai da guida turistica per quell'occasione perché a noi poi serve da dare informazione a tutti i turisti questa cosa quindi oggi prendo l'ascenza di questo quinto borgo no borgo ok l'Italia e quindi dobbiamo approfittarne qui vicino ogni tanto perdiamo dei pezzi abbiamo tante bellezze non le conosciamo purtroppo noi e tu lo sai benissimo anche loro che mi conoscono il programma è proprio un programma adatto a pubblicizzare il nostro territorio noi lo facciamo da tanti anni proprio per far conoscere oltre ai nostri prodotti proprio il territorio perché c'è tanto da vedere e Montesano da un po' di anni era stato un po' eclissato purtroppo e a me dispiaceva tantissimo però lei è stata lungimirante molto perché un giorno di tanti anni fa mi telefonò e mi disse Francesca io ti voglio qui come ospite e con Teo il nostro Teo siamo partiti e siamo andati lì a Montesano e da lì è partita la nostra collaborazione che a me fa tanto tanto piacere e continua da tanti anni ed è stata una grande grande scoperta parli tu parla lei a chi allora diciamo che alla scoperta di Montesano poi è data la collaborazione con il 105 TV ricorda ancora la prima puntata tutto l'imbarazzo eravamo un po' imbranati adesso ancora oggi io lo sono adesso ci sentiamo leggermente spigliati scherzi a parte comunque ringraziamo il 105 TV per la grande pubblicità che ci fa e la cosa più bella è quando viene qualcuno al ristorante e dice voi siete entrati nelle nostre case e mi è capitato più di una volta e questo è diciamo un merito al nostro lavoro al nostro sacrificio è un merito a 150 TV a te Francesca il merito è anche nella semplicità perché le persone si conquistano con la semplicità Francesca perché possiamo essere anche più bravi del mondo e non avere dialogo con le persone non contiamo niente brava brava lei mi piace loro mi piacciono perché hanno un modo di fare un'umiltà che è pazzesca e a me piace tantissimo non mi piace spiccare il volo a me piace volare sempre basso tu lo sai mi piace stare nel territorio conoscere le persone farle conoscere prima di tutto come hai detto tu far conoscere i nostri luoghi i nostri posti i nostri borghi c'è tanto da scoprire e tu sei un'altra di quelle che è bravissima a dare questi consigli e cerchi sempre di capire di scavare di conoscere per poi regalare agli altri sì sì cerchiamo di essere insomma più accoglienti come proprio ha detto Maria il cilentano in realtà ce l'ha questa predisposizione alcune volte lo dimentica alcune volte lo mette da parte ma invece proprio questo deve essere un nostro punto di forza con l'umiltà andare avanti e cercare di collaborare tra di noi che è fondamentale sono contenta perdonami sono contenta che sono donne che comunque collaborano perché è molto difficile che le donne facciano squadra mentre l'uomo ha più la predisposizione alla squadra quindi sono veramente felice di questa collaborazione e di questa conoscenza sicuramente intanto ho visto che Maria ha iniziato Maria hai calato la pasta hai preparato l'olio con le alici salate sì è vero ecco e ora come procede allora diamo il tempo un attimo alla pasta di cuocere poi mettiamo su il sughetto e prepariamo per tirare la pasta perfetto nel frattempo ascoltiamo i consigli di Marzia Giudice ciao Francesca oggi ti faccio venire voglia di andare al mare già abbronzata accomoda ti vieni a fare una lampada insieme a me con la nostra lampada Ibrin Collagen che è un attivatore di collagene infatti come vedi ci sono questi due queste due luci infrarossi all'altezza del viso è una lampada di ultima generazione che serve proprio per regalarvi un'abbronzatura intensa graduale e duratura nel tempo venite a trovarmi grazie grazie Marzia per i tuoi consigli arriveremo presto da te ti verremo a trovare grazie Maria intanto ci ha raggiunto il nostro amico ci ha raggiunto Gerardo parente eccolo qua prego Gerardo bentornato come al sol grazie per l'invito Francesco con quel tuo sorriso ci fa piacere ci fa piacere averti qua abbiamo i nostri amici i nostri amici che ci regalano un'altra ricetta sicuramente super gustosa perché già sento il profumo ne ho parlato prima già con la Lady Chef mi ha spiegato tutto la situazione di questa ricetta che lei si inventa non ho capito da dove li va a prendere tutte queste cose questo contrasto delle acciughe con i pomodorini gialli appunto le alici salate sono un po' perché il pomodorino è dolce e lei ci ha messo l'alicetta proprio per dare questo gusto a questa sastra particolare sì e poi ci ha messo i fiori di zucca che è un prodotto di questi temi diciamo della nostra terra e noi ne facciamo uso spesso in tutto sia nelle minestre nelle nostre frittelle farcite non farcite e nei carboidrati ora vediamo che ci fa la signora Mary e aspettiamo Maria allora ci siamo? ok abbiamo portato a cottura la pasta un attimo che la spostiamo nel frattempo hai preparato il sughetto ecco delicatissimo non aveva proprio cottura proprio zero come vede l'ha messa all'ultimo momento ha fatto prima quel soffritto come avete visto prima con le acciughe poi ci ha messo i pomodorini all'ultimo istante vedi e ci metto questo tipo di pasta bello ma Maria questo è un paccherino in modo che si insaporisce bene il sughetto che hai preparato questo fondo ecco più che il sughetto è un fondo perfetto intanto Liliana ti ho portato un altro ospite lo facciamo venire si tratta del nostro amico il professore Abramo eccolo qua benvenuto ecco qua prego 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 bentornato una ricetta tipica del nostro territorio con gli ingredienti proprio di questi periodi sì ho visto i fiori di zucca poi vedo successivamente le zucche allora sono ingredienti con valore calorico zero quindi in questo periodo ne possiamo consumare tantissimo perché non fanno ingrassare fanno mantenere leggeri soprattutto sono degli antiossidanti sono vegetali che fanno tanto 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 bene alla salute quindi nella nostra dieta penso che le zucche e i fiori di zucca debbano entrare quasi nella quotidianità perché le zucche oltre avere una funzione antiossidante hanno anche una funzione per depurare l'intestino quindi a livello dell'intestino ma anche chi soffre di insonnia faccia una dieta a base di zucca o chi è famelico ha una fame quasi rabbiosa la zucca gli dà molta serenità quindi inoltre non gli permette di mangiare altro 50 kg di zucca grazie me la portate a casa anche per me anche per me grazie l'impiatto pronta siamo pronti per l'impiatto intanto Maria procede prego quindi continuando sulla zucca questo prodotto vegetale semplicissimo fa tanto tanto bene alla nostra salute e non ha controindicazioni la zucca non ha controindicazioni perché essendo ipocalorico ne possiamo consumare quante ne vogliamo inoltre ci dà il senso della sazietà e oltre tutto questo ha anche una funzione di bellezza Francesca se tu per caso hai un'infiammazione epidermica ci metti un pezzo di zucca sopra e questa ha una funzione antinfiammatoria che bello la natura quante cose che ci regala che poi siamo non siamo a conoscenza stiamo all'oscuro di tante cose bellissimo il piatto è pronto dal punto di vista estetico il piatto non ha nulla da eccepire straordinario e sicuramente all'aspetto diciamo esterno c'è anche l'aspetto interno nel senso che come gusto come sapore come il profumo dice dice già tutto perfetto sono d'accordissimo con te prof secondo me al sole oggi è una bella giornata di sole un bel piatto al sole bellissimo questo colore è strepitoso esatto proprio per l'estate insomma bellissimo bello allora siamo pronti naturalmente per l'assaggio e il prof magari mi ha detto che c'era una novità prima di chiudere questa puntata vogliamo parlare del vino come novità l'abbina a me ecco perché questa è vincenzo in questo caso ti rubiamo la parola però ti vogliamo qui vicino c'è il prof però anche tu devi commentare voglio sentire la tua allora questo è un simbolo d'amore è un simbolo d'amore con una grandissima storia questo vitigno che viene da Somma Vesuviale Terzigno perché dico questo dico questo perché questo è un vino straordinario un vino di nicchia si chiama catalanesca catalano è nato nel 1450 per amore Alfonso I d'Aragona si innamorò perdutamente di una ragazza Lucrezia si chiamava questa Lucrezia abitava proprio nella zona di Somma Vesuviale lui se n'è infaggito lei ha capito che il re era infaggito di lei e diventò la sua concubina la sua amante anzi pensate io parlo di storie che ne parla ne parlano proprio gli storici di corte lo comandava come voleva lei ma parliamo del vitigno però questo vitigno viene dalla Catalogna le barbatelle furono portate furono impiantate nella zona di Somma Vesuviale Pollen Pollinatrecchia tutto lungo quella zona ed è un vino straordinario perché questo vino ha il sapore dell'albicocca e il profumo della cinestra e quindi ci ricorda Leopardi vedete queste produzioni non sono delle grandi produzioni però sono piccole produzioni straordinarie uniche ma fatte per i palati fini per i palati che li possono gustare e possono coniugare soprattutto questo nostro vesuvio queste ricchissime di sale minerali che poi si vanno a tradurre proprio in questo vino beh che belle cose le spiegazioni ti hanno fatto un applauso per la tua bravura ma come mai questo vino si trova qui io ho l'obbligo di dirlo perché un carissimo amico mio che abita a Tersinio Diego non perde una puntata di 105 con gusto ci fa piacere e questa bottiglia l'ha mandata direttamente da Tersinio per la conduttrice Francesca Pelletti ma che bello ma grazie come si chiama il signore Diego Macellaro Diego grazie grazie per questo squisito pensiero e gustoso naturalmente io ti mando un grosso bacio e qua appena vieni qua chiamami così ci prendiamo un caffè insieme facciamo due chiacchiere mi fa tanto tanto piacere di avere questo fan lì a Tersinio Tersinio lui però ha il cuore vibonatese scusami lo devo dire però lui è una persona di un'altissima cultura è una persona che ama tanto il nostro cilento e quindi ogni momento che gli può ricordare il cilento ne approfitta per collegarsi allora lo voglio conoscere dai lo voglio conoscere me lo presenterai ma senza senza è un onore è un onore è un piacere per me grazie 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 a Diego siamo pronti per l'assaggio io sono pronta per l'assaggio allora Francesca voglio fare un ringraziamento al professore perché il vino è poesia e lui ha descritto una bottiglia di vino con la poesia essendo diciamo un cultore del vino pure io e mi piace consigliare i miei clienti essendo anche sommelier nel nostro ristorante abbiamo varie etichette sia del territorio sia non del territorio di tutta la campagna sentire e descrivere il vino così è emozionante per questo mi è partito l'applauso spontaneo bello mi è piaciuto io però nel mio piccolo da parte mia ho portato un altro vino per fare l'abbinamento sempre del cilento un cardosa di Marco Peduto perché è un vino molto morbido dove ci sta il moscato e quindi va in contrasto con le acciughe che sono salate un abbinamento in contrapposizione che consiglia a tutti di assaggiare e di provare insieme piatto e vino ora lo stappiamo e lo assaggiamo e tu allora inizia e io assaggio com'è? fresco ottimo complimenti ricetta veloce velocissima buonissima ve l'assicuro eccezionale gustosissimo questo piatto lo potete rifare a casa in modo particolare le signore che vanno di fretta lo possono fare faranno una bellissima figura perché è un gusto eccezionale il professore grazie allora tu hai preparato per prima di brindare sono velocissima sono velocissima ma ci riferiamo al pasto completa perché vedi Francesca tu hai colpito tutti lontani e vicini e dolcissimo punto ci sta una bellissima pubblicazione sul parroco di Scario che è venuto a mancare Don Tonino Cetrancolo mio caro amico lo voglio ricordare perché con lui abbiamo fatto anche delle puntate eravamo tanto amici ero una persona speciale è rimasta nel cuore di tutti e rimarrà sicuramente nel cuore di tutti è una silloge di ricordi in verità poi ci sta un ricordo bellissimo con la prefazione del dirigente scolastico Pino Caruso ed è straordinario quanto il dirigente lui originario di Scario dirigente scolastico parla di Don Tonino e come ne parla perché Don Tonino è da una parte abbiamo Jacopone da Todi e dall'altra parte chi è Don Tonino Don Tonino è anche San Francesco perché San Francesco nella letteratura 1200-1250 è alla base del canto della poesia della natura che torna di nuovo nella vita dell'uomo e San Francesco è una delle più grandi contraddizioni sia a livello letterario sia a livello sociale e così lo è stato anche Don Tonino cara Francesca e il preside con poche parole lo illustra e ne fa un diciamo una più che un asilo c'è una sintesi breve ma molto importante e molto colta quest'opera fatta con tanta diligenza amore e zelo è stata curata da Carmelo Fasano ex comandante dei vigili del comune di San Giovanni Appiro lui Carmelo Fasano è un esperto di grafia anche altre opere ha composto in passato e noi ci complimentiamo con lui ergo questa bella opera fatta con tanto amore ma soprattutto con una grafia che adesso veramente dobbiamo dire che è una calligrafia viene regalato alla qui conduttrice Francesca Pellegrino grazie grazie gentilissimo ringrazio il comandante Fasano è stato gentilissimo magari avremo modo in qualche altra puntata di ospitarlo e di farci parlare di tutti i suoi libri che ha fatto perché non è solo questo ma ce ne sono tanti tanti altri io lo ringrazio e lo invito Gerardo due secondi soltanto per Don Tonino tu lo sai già eravamo amici tutti quanti quando inizia Don Tonino ogni volta che lo vedevo tu diventerai il mio papa questa è sempre la mia esclamazione ma alziamo soltanto gli occhi al cielo e lo salutiamo se ci commuoviamo pure ciao Don Tonino Siamo giunti alla fine di questa puntata una puntata ricca di cultura grazie al professore Abramo per il suo intervento quando vuoi prossime puntate sei sempre mio ospite graditissimo io sono un privilegiato e mi ritengo tale sia di gustare le vostre pietanze e sia di partecipare alle vostre trasmissioni mi sento veramente felice di essere con voi grazie 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 prego Vincenzo concludiamo Gerardo una ricetta buonissima Maria che si supera sempre il professore che ci ha raccontato tanto Liliana che ci ha ospitato tu con i tuoi consigli Francesco quando viene Maria qua da Montesano scende con fatica e se ne sale con una super fatica è eccezionale Maria brava Maria brava eccoci qua siamo giunti alla termine voglio ringraziare tutti i partecipanti vi do l'appuntamento anche a voi a un'altra puntata insieme ospite spero da te Liliana grazie quando volete grazie a voi grazie a tutti grazie a te grazie al tuo villaggio ti verremo a trovare sicuramente ringrazio gli amici che ci hanno seguito da casa e sempre al solito seguiteci con gusto vorrei ballare per tutta una notte su una terrazza della costiera piena di gente che canta la vita ricca di fiori, profumi e limone cento canzoni e cento tamburi per ritardare l'arrivo del sole così aspettare che il giorno ci prenda portandoci dentro a mille rumori sogno una notte che mai tornerà sogno una festa passata lontano da questa città piena di archi di luce stordita da mille sapori di terra, mare e sudore di incenso, di fuoco, di mirto e cinasso nuvole alte fra ciechi minacciano tempesta non c'è più pace qua giù per noi uomini in festa luce in cielo segnala oltre quella finestra non è più solo il tuo cuore è la vita che basta e il tempo alberga pazienti silenzi e il seme poi germina senza quei grandi consensi e germoglia la vita che sembra assolita e cresce se fonda radici infertile terra che lenta alimenta e somiglia a quell'albero che cresce maestoso e distende le sue mille fronte e porta i suoi frutti per dire a tutti sui vivo e sui grazie a tutti per dire a tutti son vivo e son qui per dire a tutti son vivo e son qui